Buon pomeriggio a tutti ragazzi, benvenuti nel mio secondo video e oggi vi faccio vedere l'aggiornamento del mio acquario oggi, o l'altro ieri, ho comprato un bellissimo romacchino che si mangia un attimino, non lo so se si vede qua, un attimino dovrebbe essere una foglia di lattuga che se la mangia poi abbiamo, ho comprato due gruppi, uno nero e uno leopardato e ho ottenuto il pulitore sempre qua e niente poi vi devo cambiare la paglia, il rete nero paglia perché mi viene meglio Questa è bellissima, io non la faccio accoppiare perché nel senno mi si riempiono l'acquario pieno di lumache perché questa razza investiva io prima avevo quelle killer che non potevano essere con altre razze e mi sono morta anche più veloce di quelle normali questa è la coda rotta, quello leopardato forse perché si è litigato quando l'ho comprato e niente questa luma che mi dovrebbe mindovare costa 4 euro o 3 euro, non mi ricordo questi 2,50 e questo non mi ricordo, dei 50 anche forse e oggi, oggi andrò a comprare la coppia di portaspada e tra qualche giorno perché devo prima ambientare io non li devo ambientare devo metterci le decoro e poi vi farò vedere per ora qua ho questa luma che è questi 2 e niente alla fine non si mangiano sto a mangiare non so perché non se lo mangiano e si prendono ancora dei pesci rossi non so perché e niente ora vediamo come si arrampica il mio preferito è la lumaca io volevo quella più grande solo che erano già vendute e per questo mi prendo questo prima io avevo la ghiaccia gigantefica la ghiaccia gigante lo vedete l'avete visto forse nel nel vecchio mio profilo perché ho rotto il telefono e ho cambiato quelle romani accanto e già la ghiaccia poi un giorno vi vorrò vedere i miei due conichi uno per ora è malato stiamo andando a vedere che cosa ha dal veterinario e i miei il mio gatto vi farò vedere i miei canarini e i miei pappacalli questi sono dei maschi che detto che sono soli questi pesci che stanno dovevano essere in gruppo detto che sono soli loro due si muovono insieme ecco e fanno le gare alcune volte e niente l'acqua ancora è un po' sporca perché la dovrò cambiare quindi a febbraio e niente questo video deve finire qua perché ho la batteria in cielo un po' scarica e niente adios per abitare per vse vse